vi avevo promesso che prima o poi sarebbe arrivata la nuova doc craft quindi beccatevela e godetevi il video e allora signori andiamo a cancellare questi due mondi di test e a creare la doc craft magari facendo così mettendo questo a zero se no voi 60 fps non li vedrete mai normal non so scrivere bene niente che ci interessa creiamo sto nuovo mondo dov'è il vabbè quegli altri se ne sono andati ma niente vediamo un po' dove ci spawna allora junk render 20 dai dovrebbe andare bene 20 no? forse 20 sono un po' troppo 16 dai ovviamente mettiamo questi ah che bello minecraft no sono un po' fortine sapete proviamo con queste un po' più leggere belle cominciamo dal legno ovviamente perché cos'altro possiamo fare ho la guia un po' zoomata va bene vuole tanto tempo che non gioco a minecraft a schermi in tiro ah un maiale bello si si questo lo mettiamo qua e questo qua anzi facciamo il contrario maialino maialino aspettate che poi il sasso non fa ok lasciamo qua uh quanti maialini là tanti maialini voi sarete il mio cibo lettino albero e appena il sasso arriverà me lo dirà lo sto sbettando da un po' ah si è deciso a finire che cazzo è si sente rovinare tutto ma e lei ha detto che se non c'era da meglio io faccio come vuole lei io sono il cano allora posso avere una cosa veloce al sasso ragazzi un secondo e mezzo sistemato al sasso ragazzi allora ci serve una cosa bella per fare il server ci vuole un albero aiuto per fare un server ci vuole l'albero giusto sasso allora dove è il sasso spero lei abbia capito quello che le ho detto prima vero lei ha un cervello lei può rispondere serio sono serio per una volta sono serio ok dai ti avviso se quello che succede che è succeduto e che succederà un'altra volta io con lei farò una cosa brutta mi esplode no peggio mi esplode una seconda magari mettici anche un po' più bassi sai ma io ti andrei sul coso bello però cosa non vuole metti 16 e va bene dove sei adesso poi anche tu che mi chiedi sei su minecraft hai un cazzo di pc vai su twitch controlla coordinate sasso asso oh lo vado a svegliare eccolo salve ma la vita tenga buon salve lei vada via dalle palle non è il momento ma voglio solo parlare non è il momento l'ho avvisata poi tiro giù le bestemmie bocca dio cazzo perché non è il momento venga dopo non so che state giocando alla doggo craft vada via dalle coglioni tanto lo so non me ne frega niente anche se non me lo dici che c'è la doggo craft non è quello se siamo io e luca parliamo io e luca non posso adesso mi dispiace sasso non ce l'ho la 1.93 sasso non so se stella tirata fuori dal culo dai per favore tanto io intanto vi faccio gli utensili li puoi mettere fidati intanto io faccio gli utensili sono 9 mega 1.3 mega 93 mega è troppo pesa troppo dai per favore fai il serio fai il serio non faccio marti puoi metterle dai che sono belle questa te la metto nel cuo dai fai il serio dove me le hai mandate su tuo ds clic su mega download ti scarica una cartella chiamata dogcraft la estrai cioè sono un bel po' di texture e l'infinite dai dove me le hai mandate non le trovo sul tuo ds non ce l'ho nintendo ds dai guarda come fanno a vederle eccole oh porco giudo scarica scarica dentro la cartella chiamata dogcraft ci sono altre texture tutte le texture le metti in minecraft funzionano con le shader in teoria io ci ho provato con le complementary e funziona allora se non funziona non le togli download mi sta scaricando in 80 kilobyte dai che merda facciamo così salva dentro va resource pack vai salva tutto dentro eh continuo al download dai ok cioè per scaricare un kilobyte allora open folder un chilo di byte ci sono tutte texture dentro la cartella di nome dogcraft ecco allora alcune sono zip altre sono cose normali quelle che sono tutte pronte da usare allora sono la bose questa questa l'oro no l'oro no l'oro no non va l'ho messa per sbaglio l'ho messa per sbaglio letter gold si togli tanto non va i gatti eccola qua e poi vesci si è sdoppiato tutto in che senso bello che cazzo in che senso vabbè ce l'hai inserita se a po' guanama guanama adesso devo dirle una cosa gli scheletri hanno il ferro lei deve stare attento poi faremo il fatto che il ferro sarà custom e non solo così per dire ok te lo dico ho messo una texture in cui il moschetto la balestra diventa un moschetto e l'arco diventa una pistola poi domani poi domani faremo in modo tale che solo a me sembra che non sia cambiato un cazzo infatti non deve cambiare un cazzo perché te non vuoi minecraft modificato ci sono solo certe cose cazzo arriverà ma che cosa ho detto che non vuoi minecraft troppo modificato poi la menti e fai allora io ti ho messo robe porco giudo qua nemico fai faffo dietro di te dove fai il freccio sasso il freccio serve per il ferro lo sa tenga ok ti devo far vedere una cosa bellissima delle robe custom qua guarda 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 vai guarda bottone tremuto picchiato tieni ascia premuta ammazzato no gli scape dai che non ho mangiare io non voglio mangiare i tommi è un nuovo tempo verbale come ti permetti di mangiare i miei figli no stiamo facendo un server abbiamo trovato il modo mattina abbiamo trovato il modo sus grazie a me no noi non dovremmo essere su questo server vero sasso non so se posso dire questa cosa però la dico lo stesso dica una parola per volta no no non è bannabile non è bannabile una parola per volta magari può essere spoilerabile qualcosa dica una parola o una lettera di quello che potrebbe essere uno spoiler os os è diventato un karate osp osp ah ospitato da chi è la legge di Elisabetta osp no un'altra lettera osp osp ah p sasso è inutile o o a mi o ti asivo ma va che mica ti bannano i cagnoli i buchi è ingorsivo io rutto come un caimano vado dal bambino a vado a puttano bastardo se poi parlo così mi chiudo il frigo beh comunque la posso dire come si chiamava eeeh dai cosa che robo ospi basta di piccarvi porco giuda carne le giude aspettate un secondo devo fare una roba eeeh io cerco qualcosa buca oh ah cos'è sta roba cos'è ah l'erba marina oh le familiarità le familiarità tra Amanda e Luca tre uova è utile passo quando hai intenzione di cominciare ho già visto cos'è cos'è che deve cominciare pollo cosa deve cominciare il signorino il signorino deve cominciare a fare bais 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 basta facendo lo cercherò bap 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 non hai il copyright tranquillo non ce lo posso dire eh grazie sono una canzone no perché per lui è anche dire bf hai il copyright basta Tu sei un copyright Aspetta che Però io non devo cantare Se no mi danno il copyright Ci danno il copyright Da quanto cazzo bene Da me si fa la cava Vieni Io ho già scelto il porto Ma prima dobbiamo scegliere un posto Io ho già scelto No dai vieni da me Se si sa scappare Dove sei? Io cerco le cose Ma dove porco si o sei? Ah ma sei là Sei dove c'è la mia futura casa Grazie Qua la vuoi fare? Forse non lo so Chi sta? No questa vanilla Sarà collaborativa No nel senso Sì collaborativa Perché guardate io E ci sarà anch'io signori? No Perché no? Legga il nome Tomo Tonno Ah doc craft Avevo letto Non è la tonno craft Ok Eh vabbè Posso fare il doc anch'io Cioè Tu non sei la Non hai un Sassu Sarò ospite in qualche episodio Io l'ho deciso io Sassu Dove sei? Sassu Dimmi Ha sentito cosa si è permesso di dire questo Infatti Ha detto di essere un doc Ma Certo Quello sono Cioè non lo so Guardate questi pelati Che non riconoscono la gente Non merita la cantina Non merita Adesso lo sposto nella vocale cantina No 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 Vai in cantina È andato in cantina Cantina Ha la chiave per uscire Nessuno gliela mai data Oh fuck It is a Tonno intelligence Very intelligent Vabbè Tonno Arrivederci Ci vediamo No Pelato Tonno Arrivederci Eh mi dispiace tonno Ma per farla uscire No dai No Per fare così E non entra più Che hai fatto? Ah capito io Ho usato Il metodo Suss L'ho bannato dal server Non proprio però Simile Eh quando ci vuole Anche con lei Sassu Io l'avrei anche No T'ha maso La bagata E te la metto in forno Lei Sassu Dov'è? Eh Ferro Fuck Devo fare il ferro È vero E che fai? Te ne privi di avere un'arma? Eh Soprattutto quando giri Adesso scampia Ti do le mie coordinate Vedi Sassu Vedi Sassu Adesso io La stessa prova di prima Ho l'80% di utilizzo Ma Primo siamo a 100% Secondo Ma io infatti Ho fatto le magie Con quel coso Dopo Testiamo Se ti laggo a meno E se non ti lagga Si farà Dalla prossima volta Lì Così Te non Non esplodi Io non esplodo E DP è statico Almeno Fin che non lo riavvio Sempre se Sempre se Non esplodo io Perché se esplodo io Bellissimo Cazzi tua Mi dispiace Ma se Se esplodo io Niente si fa qua Che alla fine Tanto se non ci sono io Non c'è nemmeno lei Sassu Nel senso Beh non gioco senza di te Però ho dettagli Vabbè Ti potresti giocare senza di me Cioè nel senso Quindi alla fine Non ho scrivuto di discordia Non ho detto nulla Dettene entrambi Ah ognuno dei due No A me è sembrato No 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 Vatela a rivedere E come faccio E dopo Allora Se lei dice così Vabbè Mi fido Ah la polca dei bambini Sì Ah Fero La resta Potrei prenderla Io ti dico I bottoni In questa vanilla Saranno tante cose In che senso Tessure Testure Questure Allora Sassu quitta un attimo O dorma Sì Ce l'ho detto Te l'ho dato Io Sassu lei sta dormendo E quindi si sogna E finito il sogno Che peccato Era un bel sogno Talmente bello Che non lo voglio rifare No Non vai più a dormire È peccato Bene Io ho cotto un po' di cibo Io ho un po' di ferro Io ho 18 di redstone Sassu Io ho detto All'inizio Lo rascio Ah ma lei è lì sotto Sì Ovvio Ah no In realtà Non te l'ho detto Ah Io all'inizio Lo rascio Perché non ho più voglia La quarta vanilla Che inizio In due settimane Quindi Appena sarò full ferro Farò a casa Caccia tanto oro Prendilo col piccone di ferro Vabbè E noi tutti Torni Ce n'è un botto Qua è una caverna chiusa O va avanti Ah chiusa Se vuoi sì C'è una caverna Ma una caverna acquatica E Boh Non mi farà una roba Che è successo? Vabbè Andiamo Tonno Voglio il tonno Tonno Io vado via Tonno 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 brucia Spegniti imbecille Salve Scusi È lei Proprio pieno di meme Ma io Non faccio mai nulla Te l'ho detto È il mio nuovo linguaggio Sasso La skin Va rimodernata Quindi Arriveranno Sono tante belle cose Infatti Ci sono I piccoli E Ciao Scappo Scappo C'è shafto 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 Mino Shafto Mino Non mi fai chiare Grazie Shafto Mino Shafto Mino Ah Oddio Mi ha messo paura Porco Giuda Porco Giuda Ti piace la texture Ho sentito Lo scheretrono Porca butta Mi ha jumpscherato Tantissimo Ma tagli Ho bisogno Anch'io Grazie Ma l'hai preso Tutto Tre ne ho presi Ah vabbè Ne avrei avuti 18 Sasso ma io Devo prendere Il ferro Cioè nel senso Quell'altro Tipo di ferro Non quello che Pensa lei Questo ferro Ma dai Ma sei un fan Mi cago in mano Ogni volta Cioè mi dai un po' di cibo Tieni Ti posso pagare Conte di oro Tieni Se mi lo riguardi Ah è il mio oro Ho droppato qualcosa di troppo Grazie Faccio un piccone d'oro E la madonna L'utilità E' proprio lui Si chiamava Mister Utilità Ah E' il momento del ferro Ah Il ferro Finalmente Sassò Basta Ti piace La text Vabbè Sassò aiuto Ah Doxo Ma lei non ha fatto Il server Come penso io Con quella roba speciale Della piuma Non rompa le balle E metta le mani in alto No 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 La prego No No Non ho niente Tengo famiglia Tengo famiglia La prego No No Famiglia in alto Ah adesso chi è Adesso chi è Eh Guarda che io ce l'ho Ce l'ho Eh più grosso Ma c'è solo questo tipo di pistolo Eh E chi lo sa Chi lo sa E chi sta Chissà cosa sto facendo io Eh Io lo so Ah Il balestro È la prima volta che faccio una balestra A stat game Vabbè ma dai Ti teniti quello Sennò Non è meme Non è bello Tanto guarda che Mi sa che Is better than C'è sì Ho sprecato uno di ferro Per fare Ritenente Questo Porco Dove sei Ah ecco Zombo Ah Tengo È la madonna Guarda che bello Quando Guarda È come si tiene un fucile Sì Proprio così si tiene Sì È quello Inglese Lo tengono così Le guardie Zampirla Ho un cuore Per favore No eh Grazie Mezzo Dai Che sto morendo Oh La Ic È un black bar Mi piacciono molto i bar Devo essere sincero Ora 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 Dai Lei non mi Ha un cuore Sto morendo Sai cosa Io c'ho una texture Che rende l'oro Che si rinomini L'oro coin Ti fai coin d'oro Di copere Di ferro Potremmo Farli diventare La valuta Del server Del server Beh In dove siamo Capito No vabbè nel senso Vabbè fin qui lo so Ma nel senso Possiamo farlo Possiamo usarli Sono carini da usare Tipo i Non lo so Per dire Te vuoi un'arma Tipo la pistola Io ti chiedo Uno stack Di coin Di copper Che non sono altro Che lingotte di copper Inominati Beh Ha senso Doxo Io mi sa Che me ne esco Da questa caverna Perché ho finito il cibo Io ce l'ho Ti ho dato più cibo Di quello che avevo io E' già usato tutto E beh Qualcuno mi spara Ogni tanto Gli viene Gli attacchi Di Scusa Cerco una cosa Proteggimi Era un tocc armato Di ascia Pistola Oh no Ok Quella mi fa paura Sinceramente Venite fuori Con le madri In alto Ti devo dire Questa è Mi è Particolarmente Piaciuta Non so se dissociarmi Sai Tipo con le puttano In alto Dio santo Ti ho scavato La tomba Sesso devo fare una cosa Arrivo subito Vado nel mio bello servero Devo testare una cosa Sì sì Devo testare Come funziona I coin Con la speranza Che non c'è una scavata Di merda Per ora avremo I copper I gold E gli iron Beh si può fare E se vuoi Una texture Che non pesa neanche a niente Quindi te la posso Anche gli stun Oh non lo so Sono stanchino Sesso Ah vabbè Non mi dispiace Ah vabbè Sesso è bella Mi sa che a qualcuno A qualcuno esplode Abbiamo un po' Discord C'è la faia Cos'è? La al volo? Forse no C'è sfida Non proprio Piaciuta Sesso posso lavarla Che puzza un po' Non so cosa sia peggio Sai Bene Io vado via da qua Sasso Lei è nudo Io il pantalone Ah no Sono nudo Scusi eh Ma non c'era Io adesso voglio Questo Penso che Gli episodi Della doccraft Editerò Semplicemente Le brutte parole Non farò Così tanti tagli Lascerò proprio L'intero episodio Su youtube Perché non posso Ogni volta Mettermi a editare Ore ore Ma Sì Un attimo È questo Le chiave In mano Un bastone lungo Come righello Di baldi Basi Cos'è baldi Basi Qua c'è del ferro Ragazzi Ma non sapete Che al sesso Esplode L'occhio No scherzando Voglio dire Una cosa A facciare pensato Scherzando Lasciamo perdere Meglio Stramatizzare Anti cringe Non ho capito Forse è meglio È finito Con quella soundbar Di merda Posso salire Di qua Ma cosa c'è Se cado Non posso vedere Ma è la caverna Di prima No è un'altra Enorme E la madonna È un cavernicolo Lei No no è un Caradere In superficie Una cesta Una name tag Siamo in una 19 Dopotutto È vero Effettivamente è la mia Prima vanilla 1,19 Ah c'è il Bordondo Ma è la parte Di là di prima È la madonna Uno stack Di ferro Parkour Parkour De bambini Oh no Porca È veramente un jumpscare Mamma mia Dai Lo sai che questa roba Rimarrà sempre Porca miseria La modificheremo in modo tale Che solo quando rinomini la pistola Però Però Mi sa che rimarrà per sempre Perché Perché Un altro Un altro Madonna Mi continuo a cagare in mano Mi sa che Mi sparo io 1v1 Napoli Fortnite Creativa Porco Giuda Ma ragno di merda Ma fatti fare Non lo so No no Io qui di so Creeper di merda Zombie di merda Tutta merda Sasso È arrivata l'ora Di farci Un'albatore Inferredite Sa che io Dovrei fare Una roba La faccio dopo Fa niente Adesso ci godiamo Gli ultimi minuti In che senso È Ancora un quarto D'oretta Ce lo giochiamo Volentieri Dai Sono di 10 e 16 La madonna No Fammi andare via Da qui Che io muoio Madre Bro 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 Predicti In questo momento Se chi sta guardando Il video ricaricato Su youtube Ha cominciato A guardarlo Alle 3 Dovrebbero essere Le 3 e 47 Bro Porco Non c'è più Sono morto Eh sei morto Ma in realtà Vabbè tipo Non sai che roba È successo Mi spiace Io devo andare A recuperare le mie cose Dove sei Dove sei Al buco Che enorme Quello Dallo spawn Ci sono anch'io C'era Era tipo uscito Ecco vai là Che se no De spawn Alle mie cose E dopo partono Le cose Perché avevo Due stack Di ferro Dove stanno Le cose Lì giù Dove stare Lì giù In teoria Si Quanto giù Ma non è la stessa Caverna No E l'altra caverna Dove cazzo è Qua Ma no Ma io ero in un'altra Eravamo andati Da un'altra parte No questa era la caverna Forse lì là sopra Sì Probabile Come ci si sale Mi aiuti Vivendo Mi scavi qua O mi dai direttamente Un po' di blocchi Così Ciao Dai Che non posso salire E Grazie Dove cazzo stiamo andando Di qua Di qua Di qua Di qua Su su qua Su squa Dio Porco Vai fa sprigia Fa sprigia Qua non c'è nulla No Però Ero tipo in un posto simile Dove sono morto Boh Ma Mi sa che c'è un altro cratere Dall'altra parte Prova a salire qui sopra Per individuare il cratere Cratere Allora qua Così Parkour Ah Io mi ammazzo Così Magari Tuti Amazon Mi piace Amazon Ti devo dire Sono Sopra Ma Ah è qua Il cratere enorme Ma non è proprio Un cratere È più Un Ce l'ansia di chiudacqua No ovvio Ce l'anava Dai Non ci credo Mi sa che si è glitchato tutto Eccole Aia Porca droga Quanta gente Ti prendo un po' di roba Pian piano Non riesco a prendere tutto Devi venire tu Infatti sto arrivando No No eh Creeper Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via C'è rotto Lascio Passaro Porco Porco zucca Bergo Eh Non è Sto prendendo un po' tutto Riesci a prendere il ferro Se non lo sta che passa Da cuocere ovvio Eh Dov'è il ferro? Guarda forse l'hai già preso No Qua sotto Quella è la cosa più importante Il resto Goal Io ce ne avevo già 44 di mio Ok Ho preso uno stack Il resto C'è Uno stack e 5 tipo Qua c'è 4 di ferro Ma dov'è il Mi dai il tuo coordinato Vabbè vengo da te Tanto ho preso tutto No dammi le coordinate Dammi le coordinate Dai Ho preso tutto Ma sei sicuro? Balestra Arco Sì Il rimasto della sabbia Balessi Per la mia Fai vedere che cosa Vabbè sì Se c'è tutto Anche l'altro letto Sì Perfetto Sare dai Fai vedere quanto ferro hai Ok ok Mi torno allora Sei Vabbè io ce l'ho C'è Vabbè dai Anche non ho sbatto Di fare i conti Quindi Lasciare Che palle Dover salire così Dov'è lei? Ehm Lop Ah ho capito io dove siete Arrivo sopra Dov'è lei? Io sto arrivando a sped Ma non avrò Dove? Stai? Vabbè io scendo Sai aumentassi un po' Ma eccoti Io sono a big cratere 1 Ma eccoti 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 Ciao Dove? Porco Tipo Non so come Ma sei riuscito A rompere l'uovo In modo tale Che spari Come una Vabbè Ehm Allora Sono uno stack di ferro Arco Frecce Resto Frecce non le ho Vabbè è giusto Arco frecce no Ehm Letto Spade in stone Asha in stone Che mi sa che è rimasta giù Due fornaci Ma ci sto l'ho rotta Ok Ehm Il ferrolicotto è mio Due fornaci Sì Un po' di carbone Ah sì Il carbone c'avevo Uno stack Sì uno stack Vabbè Ape Ape che si è l'engenz Era rimasta sola Sasso Ora farò una cosa bella Guardi Ha visto Faci di rimarrà un easter egg Eh Qualcuno Ha detto Egg Por No Ecco a cosa serve Ciò che racconti Lancia l'uovo Lancia l'uovo No Dai Peccato Dobbiamo scegliere Un luogo dove fare casa Nel prossimo video Sicuramente Cioè La prossima volta Asso Ha visto Quell'albero lungo Lungo Albero esploso Minissoso Oggi va così Mi dispiace Becora Dormi Dormi Subito Ti strozzo Sette ban Dormi C'ho tipo i comandi Si E non mi posso tipo nemmeno di hoppare Perché non ho vanno Vabbè Vabbè Ma dai ma Tommy arriva e scrive pelato E guarda Guardami 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 No So già cosa hai in mano So già che c'hai l'uovo Quindi non Non mi spaventirò No guarda un attimo Dai guardami Dove cazzo sei Ecco Guardami La My honest reaction È Tommy Non quito Soltanto perché Sennò ti chiuderebbe il serve Bella sta pianura È molto fluviale Ah è fiumicino Che bello Luca ha il bastone corto Ah ragazzi Il sasso ha comprato la nuova tastiera Vabbè Via Sasso ho trovato della roba con Mending No Penso che succede Hai un'armatura con Mending No Basta Se sei troppo potente Se ti guardo muoio Cazzo Così tanto Eh sì Non ti posso più guardare Ah t'ho rubato la crafting table Se guardo Luca vomito Anch'io Voglio farle un regalo Le do questa Beh il cart con la roba Ce l'hai te Sasso Le do questa L'ho data Ah C'è rimasto male Va bene Gli ne do un'altra Ah basta Sono morto Ho un cuore Mezzo Dio caro Avevi detto uno Dammi Dai Dammi la tua posizione Se tu dici uno Io dico mezzo Ok Dai Dammi coso Cosa cosa Il mio ferro Dammi la posizione Eeeh Ho ferro E se dammi Qua Allora smetti di ciullarmi il ferro Che era mezzo stack Questo non lo cerca Basta dammi la posizione E guardatela C'ho le coordinate aperte Così Adesso ti vecchi il bravo Tota che scrive il meno Quindi vaffanculo Io parto alla riscosta Turudun 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 Ma perché Ma non mi metti quei point Turudun 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 E' più importante il villaggio Che sei mazzo Io ti amo Ma dai Ho ruoto tutto Non t'ho preso niente Dopo ti ridò tutto Devo ammazzare Perché ho un cuore Vai Che palle Ciò fare con te Adesso Adesso Tu non vieni più Quando si fa Minecraft E non vengo più Quando si fa GTA Ok E così non si fa nessuna serie Easy Ubiamo il grano Dai Sasso Venga Non parlo più Che bello Un po' di base Parlerò così No se tu fai così Ho mi quito Quito dal mondo E non puoi dire va bene Perché poi rimani fuori Dai Sasso Ma sto aspettando il villaggio Ma non c'è nemmeno un fabbro Due golem È un villaggio di quelli grandi Sasso si muove Sasso le ho chiesto se si muove Sasso uno Si muove Sasso due Al tre io esplodo Sasso tre Ma Ehi Ma che cazzo è Ma scusi eh Che è sto bullismo estremo E io vado Ciao Lui è Cattivo Eh devo Dammi l'ip Dai Eh devo riaprirla Ma perché dobbiamo farla sulla tua cazzo di vanilla Di me Eh Come si fa così Io adesso bano Il tuolo Non mi sembra ammazzarmi Dopo Si fa il test bello Quello Bello Ho perso Il numero della chat Dai Un attimo Copia In cula Sasso è cattivo Sasso picchia Perché tu hai ucciso me Io l'ho fatto apposta Se tu dai risultati sbagliati Io Ricambia Fa Vore Basta 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 La nutella Basta la nutella Non è che ci ho messo cuore Serio Mezzo Sì Ah vedi Se lei diceva mezzo anche prima Io non faceva Pollo Smetta questa Almeno può volare Mi puoi ridare le mie cose Allora letto Apri l'inventario Ti dico io Ti ho dato tutto No Manca la name tag Il letto No questa è mia No la name tag è mia Ma ne avevo due L'hai lasciata là Cosa L'avrai lasciata là Non è possibile No la name tag è mia Ce l'ho sempre avuta Vai riguarda Non puoi aver luttato Una mine Minecraft Dato che Ma sì che l'ho luttato Al mine No l'ho visto Allora non è vero Allora vediamo un po' Dove l'hai lasciata Anche il letto L'letto è mio Il mio pelletto E l'altro letto Vabbè dai Fai Fai Dove è che sei esploso Di qua Coglio Dai vabbè Tipo ho perso tutto Perché non sei Lei ha detto Uno Io ho capito Zero Due Tre Tre E ste Basta Di quittare E così Perché lei E bastano dentro Giocati Allora Finiamo qua Per colpa del sasso Si finisce qua Ragazzi ringraziate il sasso Nei commenti Lied A presto Sta Quicere